Roma, 4 maggio 2018, oggi ho deciso di mostrarvi una foto di quando avevo 20 anni, subito dopo le botte che presi da un gruppo di ragazzi in metropolitana mentre mi urlavano insulti. Vladimir Luxuria condanna l'omofobia pubblicando su Instagram una istantanea di quando era giovane, nel mirino dei bulli. Mi fecero male i cazzotti, scrive, e anche l'indifferenza della gente che continuava a guardare altrove come se non stesse accadendo nulla. Non mi vergogno di mostrarvi la barba e i lividi che avevo allora. Li ho superati entrambi. Oggi ho deciso di mostrarvi una foto di quando avevo 20 anni, subito dopo le botte che presi da un gruppo di ragazzi in metropolitana mentre mi urlavano insulti. Mi fecero male i cazzotti e anche l'indifferenza della gente che continuava a guardare altrove come se non stesse accadendo nulla. Non mi vergogno di mostrarvi la barba e i lividi che avevo allora. Li ho superati entrambi. Cancelletto bullismo Cancelletto omofobia Cancelletto transfobia Un post condiviso da Vladimir Luxuria Chiocciola Vladimir Sottolineatura Luxuria In data, man 4, 2018 at 2 e 28 piditi all'epoca la nota conduttrice tv era un'artista che cercava la sua strada. Più volte ospite del Maurizio Costanzo Show, si chiamava Vladimiro Guadagno e non aveva ancora intrapreso il cammino, la trasformazione sotto il profilo fisico esteriore, di pari passo con una evoluzione interiore che l'ha portata a realizzarsi nel mondo dello spettacolo e nella vita. Mi trovavo a Milano e venne notata da alcuni ragazzi, in metropolitana. Portavo gli orecchini, iniziarono a prendermi in giro nell'indifferenza più totale. Dagli insulti alle botte il passo fu breve, e mi colpì il fatto che nessuno mosse un dito per difendermi conclude Vladimir Luxuria nel suo messaggio su Instagram.